Arrivano dalla Romania e sono degli artisti veramente eccezionali. Hanno già vinto i festival di Parigi e di Mosca. Signori alla Barra Russa, i Viorel! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Nessuno dei componenti della troupe Viorel ha seguito una tradizione di famiglia, ma tutti hanno scelto il circo per passione. Grazie a tutti! Brava! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Bravissima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!